Due agenti feriti, un numero ancora imprecisato di persone arrestate, soprattutto la più grave forma di protesta violenta contro l'accoglienza ai migranti che i Paesi Bassi abbiano finora conosciuto. A Gelder Malsen, cittadina di 27.000 abitanti vicino a Dutrecht, una folla di quasi 2.000 persone è intervenuta in maniera violenta contro la polizia. I disordini si sono verificati proprio mentre il Consiglio Comunale era riunito per decidere la costruzione del centro d'accoglienza per i richiedenti asilo. La sessione è stata sospesa, 1.500 persone dovrebbero essere ospitate nel controverso centro. Il ministro della giustizia olandese ha commentato l'episodio definendolo indegno dei Paesi Bassi.